ciao ragazze ciao ragazzi questo video inizia così ma per me è finito ovvero oggi è stato il video del mio allenamento che adesso vedrete sono tutta gasata perché mi piace tantissimo allenarmi sono felice di condividere con voi questo video che sto registrando in vacanza se avete visto il mio video vlog lo sapete già io penso di farvi vedere come mi sto allenando ma così per modo di dire perché rispetto all'allenamento in palestra con i pesi è tutta un'altra cosa però serve insomma per non perdere appunto quell'allenamento e quella minimo di tonicità ed è molto molto bello perché fa bene allenarsi quindi in vacanza oppure a casa con le bottiglie vi farò vedere metodi molto spartane e casalinghe per allenarvi in particolare addome glutei e gambe se volete anche vedere anche braccia anche altre cose altri sempre per glute e gambe ne conosco tantissimi quindi mettetevi tanti like in polliciate questo video io spero tanto che vi piaccia meno a quando musica palla bottiglia d'acqua pronta per bere e buon divertimento a continuare con i pesi è quanto che vediamo ancora Grazie a tutti 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 Non è sudore Non è tutto sudore ma sotto c'è sudore Adesso doccia e poi mi raccomando Una giusta ricompensa ci vuole un po' di cibo Impollisciatemi questo video mi raccomando Tanti tanti like Pensate che sono in vacanza ma io penso sempre a voi Carlita non è un'altra Carlita non so se scordi voi